buongiorno gabrie eccoci qua supergirl ok gabrie cosa andiamo a fare? andiamo a fare un lancio di prova di wonder woman e vai e vai ehi superman ciao avvicinati andiamo andiamo allora siamo pronti si sale in aereo e si prova questa bellissima emozione è emozionatissima ieri ho aspettato un po' però ora sei ancora più emozionata? si si stai tremando tutta guarda come tremi ok vai ok roll eeeh Ok Capri, sei pronta? Prontissima, un saluto. Uno, due, tre! Guarda che ora ti divertirai, guarda che sei divertita in vita tua! Lo spero! Un saluto! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.